Hi, I'm Sofia, I'm a pastry chef and a content creator and today we're going to learn how to make soup. Allora, ho bisogno della mozzarella fresca, fior di latte, pecorino romano, e siamo a Roma, olio per friggere, passata di pomodoro, riso, passata di pomodoro, macinato di bovino, basilico, cipolla, olio d'oliva. Sì, sì, uno per noi, uno per il suppli. Il suppli è un cibo che noi mangiamo sempre, da quando siamo piccoli, si ha le feste in pizzeria, le feste della classe, è un cibo che conosciamo benissimo e fa parte proprio della nostra vita, sempre.